Tanti, troppi cittadini in bassa Val Sugana sono senza medico di base, attivo un nuovo servizio all'ospedale di Borgo. La mancata copertura dei medici di base in bassa Val Sugana e Tesino è un problema che settimana dopo settimana sta coinvolgendo un numero crescente di pazienti. Non solo in diversi comuni del Fondovalle, ma anche nei tre paesi della Conca del Tesino, tanto che il Consiglio dei Sindaci ha chiesto ed ottenuto un incontro con i responsabili dell'azienda sanitaria per cercare di trovare la quadratura del cerchio e fare il punto sullo stato della copertura delle posizioni vacanti. Torcegno, Borgo, Telve, Grigno e Castelnuovo hanno posizioni vacanti di medici di medicina generale che rendono il servizio difficile da gestire, creando gravi disagi a chi si è trovato senza il medico. Un disagio che, soprattutto per le persone anziane, diventa davvero difficile da gestire e proprio in questi giorni è stata emessa in campo una nuova iniziativa. Presso l'ospedale San Lorenzo di Borgo, infatti, è stata creata una guardia medica riservata esclusivamente ai tanti pazienti e ancora oggi senza medico di base in bassa Valsugana e Tesino. Il servizio è attivo dalle 16 alle 19, dal lunedì al venerdì ed è raggiungibile ai numeri 116 e 117.